Come nascono gli accordi? Per rispondere a questa domanda è inutile tirare in ballo strane teorie sul fatto che appaiano magicamente sotto i cavoli o che siano coinvolte api, fiori o cicogne. La verità è semplice. Tutto parte da intervalli musicali che si incontrano, si conoscono, entrano in sintonia e in un profondo atto di passione per la musica decidono di mettere sua famiglia e dare vita ad un accordo. In questa prima puntata partiremo dal caso più semplice che vede protagonisti due intervalli musicali molto speciali che scopriremo fra poco, che hanno dentro di sé delle istruzioni armoniche che sono le fondamenta per costruire il particolare carattere e le sensazioni trasmesse da un accordo di base, un po' come i geni di un immaginario DNA armonico. E dato che in natura esistono diverse varianti di ogni intervallo, è proprio il modo in cui si combinano gli speciali geni armonici di ognuna di queste varianti a decidere quale accordo nasce quando si mescolano fra loro. Ma come avviene questa magia? Beh, senza entrare nei dettagli su come avvenga concretamente questa amorosa mescolanza di essenze musicali, chissà, magari lo scopriremo in una prossima puntata speciale, ma devo studiarmela molto bene per non rischiare che mi chiudano il canale. Scegliamo un approccio più scientifico, ma non troppo. E rinfreschiamoci velocemente la memoria su che cosa sia un intervallo musicale, l'ingrediente base dei geni del DNA armonico. Esplorando il canale potrai trovare svariati video che ne parlano in maniera più o meno dettagliata, sia dal punto di vista della teoria musicale che applicate all'ear training. Ma semplificando al massimo si tratta di un metodo semplice e coerente per misurare la distanza fra due note. Infatti nella teoria musicale tonale, sulla quale si fonda la gran parte della musica occidentale, tutto ha origine dalle sette note che individuano la scala maggiore di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, che vengono chiamate note naturali e alle quali possiamo associare sette gradi crescenti, da 1 a 7, che possono poi diventare otto o anche più se contiamo anche le ripetizioni delle stesse note un'ottava più in alto. Quello che ci interessa è capire quanto ognuna delle note dei gradi della scala maggiore vada d'accordo a livello acustico e sonoro con la nota fondamentale, il primo grado, in modo da creare un accordo di partenza gradevole e che suoni bene. E che cosa c'è di meglio di un mix fra matrimonio a prima vista e un gioco delle coppie a eliminazione per scoprire i due fortunati intervalli musicali che potranno coronare il loro sogno d'amore e partire per una romantica crociera a spese mie. Quello che farà davvero la differenza fra la vittoria e la sconfitta sarà il particolare carattere sonoro di ogni intervallo, che dipende dal modo in cui interagiscono fra di loro le frequenze delle due note che lo compongono, generando vari livelli di consonanza o dissonanza. Ovviamente il primo grado ha già vinto in partenza e farà sicuramente parte dell'accordo, essendo la fondamentale dell'accordo stesso, cioè la nota a partire dalla quale viene costruito. I nostri concorrenti non hanno alcuna possibilità di barare, perché la consonanza nasce da un fenomeno fisico strettamente legato al concetto di armonici di un suono, che abbiamo già esaminato nel video dedicato al timbro sonoro, studiando l'onda sonora prodotta da una corda di una chitarra. Link qui sopra è in descrizione. Infatti la quasi totalità dei suoni contengono al loro interno una somma di diverse frequenze, i cosiddetti armonici naturali, legate fra loro da precisi rapporti matematici. Quindi se per esempio scegliessimo come primo armonico, cioè la base da cui partire, la frequenza che corrisponde al do della seconda ottava del pianoforte, 65 Hz, gli armonici successivi corrisponderebbero alle note e alle frequenze mostrate in questa figura, che coincidono con moltipli della frequenza di base moltiplicata per il numero dell'armonico. Due, tre, quattro, cinque e così via. Osservando le note dei premi armonici di do, notiamo che la stessa nota appare anche su secondo, quarto, ottavo e sedicesimo armonico. E questo spiega perché le note con lo stesso nome su ottave diverse suonano così bene assieme, in quanto hanno in comune una grande quantità di armonici. E questo trasmette al nostro orecchio musicale un'estrema sensazione di consonanza. Quindi il primo premio, in fatto di consonanza, va sicuramente all'intervallo di ottava, che però colpo di scena non può partecipare al nostro concorso, perché non aggiungerebbe nulla all'accordo che vogliamo creare, visto che rappresenta la stessa nota della fondamentale. Quindi eliminato! Osservando di nuovo gli armonici, scopriamo che anche il sol, il quinto grado nella scala maggiore di do, è particolarmente presente nelle prime posizioni degli armonici di do. Infatti lo troviamo subito sul terzo armonico, e poi nuovamente sul sesto e sul dodicesimo. Questo spiega perché anche primo e quinto grado, do e sol in questo caso, siano estremamente consonanti, proprio grazie al fatto che la nota del quinto grado, sol, condivide molti armonici con quella di primo grado, do, e quindi la loro somma, quando suonano assieme, genera un'onda sonora molto coerente e piacevole per il nostro orecchio musicale. Quindi il secondo posto in fatto di consonanza va sicuramente all'intervallo di quinta, che grazie all'eliminazione dell'intervallo di ottava si guadagna il ruolo di primo vincitore di una stupenda crociera romantica. Ora non ci resta che scoprire assieme a chi vivrà questa fantastica esperienza. Osservando di nuovo gli armonici non ci sono dubbi, perché sul quinto armonico, e anche sul decimo, appare la prima nota diversa da do e sol. È il mi, che in questo contesto corrisponde all'intervallo di terza maggiore. Ed ecco che abbiamo i nostri vincitori, che in fatto di consonanza con il do sono veramente dei campioni. L'intervallo di quinta giusta e l'intervallo di terza maggiore, che assieme alla fondamentale danno vita all'accordo più stabile e consonante in assoluto nella musica tonale, la triade maggiore. Per gli altri concorrenti non tutto è perduto, perché li incontreremo di nuovo in una delle prossime puntate di questo fantastico gioco a eliminazione. Un attimo, che cosa sta succedendo? Colpo di scena! I vincitori si sono trovati subito talmente in sintonia da non riuscire a resistere alla passione e dietro le quinte hanno già iniziato a sfornare triadi maggiori. Forza, datevi un contegno e venite a salutare il pubblico e a ritirare il vostro premio. Una fantastica crociera nel mare dell'armonia. Per conoscervi meglio e soprattutto per coprire che cosa realmente siete in grado di fare lasciandovi un po' andare ed esplorando le interessanti possibilità creative delle differenti versioni dei vostri intervalli, nascosti all'interno del vostro DNA armonico. Per saperne di più, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e non perderti la prossima puntata di Come nascono gli accordi, dove scopriremo come funziona il DNA armonico degli intervalli, come interagisce con il contesto tonale e la tonalità e come i nostri vincitori possono dar vita a tante triade differenti, ognuno col suo speciale carattere sonoro. Alla prossima!